Buongiorno e benvenuti alla resegna stampa di lunedì 2 marzo 2020, buongiorno dalla redazione di Fano TV che come sempre è qui pronta per aggiornarvi, per darvi le notizie fresche di prima mattina. Allora oggi cominciamo una settimana un po' particolare, una regione divisa in due con il nord delle Marche dove ci troviamo noi che stiamo trasmettendo qui da Fano con la questione del coronavirus che tiene banco ovviamente dove qui è ancora tutto bloccato per una settimana. Qui le scuole saranno chiuse fino all'otto ma non solo le scuole come vedremo tante altre cose che sono state previste dal decreto firmato ieri dal Premier Conte, il resto della regione invece che per il momento torna apparentemente alla normalità, di questo parleremo. Intanto c'è il Santo del Giorno che speriamo ci metta una mano anche per la giornata di oggi, oggi ci affidiamo a Sant'Agnese di Bohemia, il sole è sorto alle 6.43 e tramonterà alle 17.57. Dicevo c'è anche il tempo, il tempo che per la giornata di oggi sarà comunque variabile, intanto qui siamo sulla pagina di trebimeteo.it che appunto per lunedì e martedì prevede maltempo sull'Italia con piogge anche forti e nevicate. Sulle Marche invece la protezione civile prevede oggi un cielo poco nuvoloso al mattino con addensamenti maggiori lungo la fascia interna in intensificazione del corso del pomeriggio anche verso la costa e infatti durante il pomeriggio oggi avremo precipitazione, avremo la pioggia soprattutto nella parte interna della regione dove risulteranno queste piogge anche più abbondanti e poi avremo piogge sparse invece anche se meno importanti sulla fascia costiera. Le temperature sono in lieve aumento perché avremo ancora oggi venti moderati che spingono da sud. La giornata di martedì invece sulla regione si presenterà in questo modo con precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio, il limite delle nevicate in graduale calo verso i mille metri ma soprattutto la sera, la sera caleranno anche le temperature nei valori massimi. Mercoledì e giovedì la situazione sarà invece secondo la protezione civile in miglioramento. Oggi è lunedì quello che resta dello sport, quello che si è giocato nella nostra regione, lo troverete sui quotidiani Corriere e Carlino di questa mattina in Edicola, noi adesso andiamo a vedere invece le altre notizie. Ovviamente in primo piano c'è la questione del coronavirus con la provincia di Pesaro che è diventata zona gialla e le scuole restano ancora chiuse. Il governatore Ceriscioli dice ha deciso il governo, nelle Marche cresce il numero dei casi positivi, siamo a quota 35 ma sapete tanti sono i tamponi effettuati quindi oggi probabilmente questo numero sarà destinato a cambiare in salita. Mentre c'è la notizia, ieri c'è stato un incontro con la direzione del Partito Democratico, Mangialardi a sorpresa o neanche tanto unisce il Partito Democratico e dunque questo nome esce, esce ufficialmente da questo incontro, adesso si tratterà di trovare l'intesa con gli alleati e come vedremo non tutti sono perfettamente allineati. Tra l'altro Mangialardi sarà, lo ricordo già da adesso, ospite questa sera di primo cittadino in veste di sindaco della città di Senigallia, anche se uscente dopo il telegiornale delle 20 e 30. Andiamo subito a vedere invece la pagina del resto del Carlino, la fotonotizia è per la via Passeri, via Passeri a Pesaro dove sono state accese queste luminarie, festa per Rossini in via Passeri poi subito stop alla fase 2 di Ricci, coronavirus si riblocca infatti tutto. Un'altra settimana senza scuola alla fine la spunta cerisciola, il governo modifica il decreto e inserisce anche la nostra provincia tra quelle off limits, mentre la politica PD fumata bianca per Mangialardi summit degli alleati. Ieri la direzione regionale addio accordo, Orlando dice con i grillini non c'è ormai più niente da fare, nessuna intesa è possibile. Entriamo nelle pagine interne, allora scuola chiusa dicevamo in provincia di Pesaro Urbino fino all'8 marzo, i sanitari bloccate invece le ferie, negozi e chiese aperte a patto che ci sia spazio tra le persone. C'è la questione delle messe da chiarire, so che oggi qualcuno si recherà in prefettura per cercare di capire come affrontare questa settimana qui in provincia di Pesaro dal punto di vista delle celebrazioni eucaristiche, perché è vero che le chiese sono aperte, ci si può entrare, si può pregare singolarmente eccetera, però da capire un po' meglio invece la questione delle messe. Le misure contenute nel decreto del Presidente del Consiglio Conte, nelle marche e limitazioni previste per la sola provincia come dicevamo di Pesaro Urbino, siamo sotto attacco del coronavirus, altri 10 contagi solo nella giornata di ieri, l'ultimo a Montecalvo in foglia, serve fronteggiarlo con delle accortezze per schivarlo, lo diciamo ormai da tempo, lavarsi spesso le mani, non abbracciarsi, stare ad un metro l'uno dall'altro, non stringere le mani a costo di essere maleducati, evitare affollamenti. Insomma sono queste le regole per combatterlo. Poi stop agli eventi, come abbiamo detto, a competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, questo almeno qui in provincia di Pesaro Urbino fino all'8 di marzo, resta consentito invece lo svolgimento degli allenamenti all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse. Non è finita qui perché c'è anche il divieto assoluto di trasferta dei tifosi che sono residenti nelle regioni e nelle province per la partecipazione ad eventi e competizioni sportive che si svolgono invece nelle restanti regioni e province. Cioè non si può seguire la squadra. Quindi insomma ci sono delle limitazioni anche per esempio nelle degenze ospedaliere. tante cose che potrete leggere anche qui sul Corriere di questa mattina, tanti stop, tante situazioni. Adesso sto cercando di leggervi un po' quello che può interessare la vita, che ci riguarda un po' la vita tutti i giorni. Insomma abbiamo le lezioni sospese ma non per i dottori, match a porte chiuse che abbiamo visto, stop cinema e teatri meno le visite ai malati, in chiesa e al museo perché distanti, un metro di distanza invece al ristorante. Questa forse è la più curiosa come iniziativa. Cioè quando si va nei ristoranti, nei bar, in questa settimana, ristoranti, bar e pub potranno continuare sì a tenere aperti, però i gestori devono fare in modo che gli avventori abbiano tutti un posto a sedere innanzitutto. Non possono stare in piedi, ma soprattutto devono evitare che si stia uno accanto all'altro. Ci devono essere le condizioni per poter stare ad almeno un metro di distanza. Chi vigilerà? Certo, vigileranno e ci saranno anche delle multe eventualmente e quindi devono vigilare innanzitutto i gestori, poi dopo la polizia locale, le forze dell'ordine e quant'altro. Comunque il prefetto sovrintenderà tutto quanto. Marche, 35 casi di contagio, scuole chiuse solo al nord, soltanto nella provincia di Pesurbino, un'altra settimana di lezioni sospese e manifestazioni pubbliche vietate. Ieri altri 11 tamponi positivi, 10 nel Pesarese e uno nel Lanconetano. Sono 228 le persone in isolamento domiciliare. Dunque il trend che pubblica il Corriere questa mattina, in questo grafico, il trend di questa infezione dal 25 febbraio, quando è comparso il primo caso in provincia di Peserobino, poi mano a mano si è saliti, il 26 si è saliti a 3, poi a 6, 11, 24, adesso siamo al primo di marzo e praticamente sono 35, mentre stiamo andando in onda, i campioni positivi nella regione, 33 nella provincia di Pesurbino, 2 nella provincia di Ancona, mentre 228 persone sono in isolamento domiciliare, sono costrette a stare a casa. 7 invece le persone ricoverate in terapia intensiva, 9 i ricoveri fuori invece dalla terapia intensiva. Il contagio anche qui, il Carlino fa il conto, quota 33, 7 sono in terapia, altri 9 sono accolti in ospedale, quasi 230 in isolamento domiciliare. Poi c'è anche un pesarese positivo al virus, però a Santo Domingo. Si tratta di un 62enne, è il primo caso nei Caraibi. Ed è un 62enne di Pesero, arrivato nel paese il 22 febbraio senza sintomi. Ed è il primo appunto nei Caraibi. Ed è ricoverato a Sant'Isidro, ma non desta preoccupazione. Mentre Carloni attacca Ceriscioli, paura generata dal caos. Dopo due giorni di attesa, solo alle 17.30 di ieri pomeriggio, i marchigiani hanno conosciuto le decisioni contenute nel decreto sul coronavirus, lo scrive il consigliere Carloni della Lega. La paura non viene solo dal pericolo, ma dal caos e dall'incertezza. Chi ci governa doveva pensare a informare i cittadini e a non riunire il PD per scegliere il candidato alle regionali. Provincia sorvegliata speciale, una settimana di prescrizioni, scuole chiuse e manifestazioni vietate, restrizioni per funzioni religiose e luoghi di cultura, stoppa le trasferte per i tifosi, allenamenti sportivi possibili invece solo nella palestra a porte chiuse. Dunque, anche qui il Corriere Adriatico, nella pagina interna questa mattina, indica quelli che sono i provvedimenti validi fino all'8 di marzo. Dalle scuole chiuse all'attività di formazione e anche all'Università della Terza Età, che viene interrotta, però questa mattina leggevo che, per esempio, l'Università di Urbino si è chiusa fisicamente, però continua le elezioni, perché le elezioni verranno effettuate online, quindi in rete. Sono sospesi tutti gli spettacoli, gli eventi sportivi, le trasferte, restrizioni invece anche per l'attività nei luoghi di culto e cultura nelle attività commerciali di ristorazione, drastica limitazione per le visite ai degenti, negli ospedali e nelle RSA. La Movida non arretra invece ad Ancona la strana domenica tra un'ordinanza scaduta e l'attesa di quella nuova, mentre le multisala, cioè i cinema, sono rimasti praticamente semivuoti. Usi e Movieland pesa la paura del contagio, qui siamo nella pagina di Ancona. Ieri sì sono state celebrate le messe, ma insomma non c'era molta gente. Questa è una domanda invece che hanno posto ieri, per esempio sulle pagine social, hanno posto alcuni studenti anconetani, perché sapete, alcune le scuole sono aperte questa mattina, però la domanda è, ma gli studenti pesaresi, che sono nella zona gialla dunque, in una zona un po' così, sotto osservazione, possono venire ad Ancona? Una mamma scrive al preside dell'ITIS in ansia agli alunni dell'alberghiero di Senigallia. Senigallia e Pesaro, insomma, sono due passi. Luca Ceriscioli risponde ad un utente e dice noi abbiamo chiesto la chiusura delle scuole in tutta la regione, ma questo non è stato accolto, non è più quindi la regione Marche che agisce con l'ordinanza, ma il governo con legge ed è stata inserita la provincia di Pesurbino in forza dei 24 casi ad oggi positivi. Teremo monitorata la situazione di Ancona nei prossimi giorni. Ora però, a rigor di logica, se non possono fare le trasferte i tifosi da una città, che per esempio può essere Pesaro, a quella di Ancona per assistere alla partita, ora il buonsenso, mi viene da dire, sarebbe la stessa cosa anche per gli studenti. Gli studenti stanno a casa, pesaresi, anche se frequentano una scuola di Ancona, perché Ancona è vero che sono aperte, però chi parte da casa è parte da una città che in questo momento è, tra virgolette, in quarantena. Quindi voglio dire, così come vale per i tifosi, vale anche per gli studenti. Quindi gli studenti di Pesaro stiano tranquillamente a casa, anche se vanno a scuola in altre parti dove invece le scuole sono aperte. Marche Nord, in sofferenza per posti letto e personale. Oh, qui c'è la situazione degli ospedali, la situazione non è che sia da quello che ci arrivano anche come notizie, come informazioni, come segnalazioni, poi, ecco, non è che sia un granché, nel senso c'è un po' di confusione. Per esempio, e qui leggiamo il Corriere Adriatico, Marche Nord, l'azienda ospedaliere Marche Nord, di insofferenza per posti letto e personale. L'altra notte è diventato in realtà il timore che i posti letto di terapia intensiva, rianimazione di emergenza, urgenza, potessero non essere più sufficienti. Infatti, nella notte fra sabato e domenica, due pazienti sono stati trasferiti da Marche Nord ad altri ospedali della regione. Per esempio, un 84enne già ricoverato in rianimazione con serie patologie, la cui situazione clinica si è aggravata nelle ultime ore per un possibile contagio, è stato trasferito da Marche Nord all'ospedale San Benedetto e da un primo tampone effettuato il paziente sarebbe risultato positivo al coronavirus. Una donna, l'altro caso, 74 anni, già ricoverata con sintomi sospetti, è stata trasferita invece da Marche Nord a Civitanova Marche. Inoltre, nelle ultime ore dai reparti del San Salvatore e del Santa Croce di Fano, infermieri e operatori sociosanitari vengono destinati negli spazi riservati ai casi sospetti di coronavirus in medicina d'urgenza e al pronto soccorso, scrive Letizia Francesconi questa mattina nel suo articolo che troverete in edicola. La Direzione Sanitaria sta anche valutando la sospensione degli interventi chirurgici programmati per il blocco operatorio del San Salvatore mentre il blocco di Fano che lavora però in death surgery da oggi l'attività programmata sarà ridotta e il personale infermieristico andrà a coprire medicina e pronto soccorso dove ci sono carenze viste alcune unità di personale che sono in quarantena. Alcuni si trovano in quarantena perché hanno avuto a che fare con pazienti positivi e dunque alcuni sanitari sono obbligati a stare a casa appunto e non possono andare a lavorare perché in quarantena. E qui c'è il racconto su quest'altra pagina del Corriere Adriatico del paziente 1 paziente 1 quello di Ancona l'unico sono due adesso ad oggi però questo è il primo che è venuto fuori e che è stato ad un convegno a Riccione e poi ha cominciato a star male ma io direi che approfittando sempre di questo grafico che sono sempre molto interessanti e che fanno una sintesi e fanno capire in sintesi un po' che cosa è successo di leggere quello che è successo quello che è accaduto questo paziente 1 Anconetano perché insomma fa capire un po' di cose allora intanto domenica 16 quindi parliamo di ormai un po' di tempo qualche settimana fa questo Anconetano ha partecipato partecipa ad un convegno a Riccione quando ancora l'emergenza coronavirus non è emersa in Italia potrebbe essere questo il momento questo il momento a rischio contagio lunedì 17 quindi il giorno dopo questo paziente 1 si è già ammalato ha febbre alta raffreddore mal di gola dopo qualche giorno quella che sembra però una normale sindrome influenzale attenua i suoi sintomi tanto che il paziente esce di casa però poi ha una ricaduta e siamo a venerdì 28 quindi da lunedì 17 passiamo a venerdì 28 quindi quasi 10 giorni dopo dopo qualche giorno di tosse persistente problemi respiratori il paziente sta così male da chiedere aiuto al 118 dopo un primo passaggio al pronto soccorso di Torretta in serata è stato disposto il ricovero nella clinica di malattie infettive sabato 29 nella tarda serata il Gores il gruppo operativo per l'emergenza sanitaria delle Marche comunica al paziente anconetano l'esito positivo del campione e gli dice hai preso il coronavirus dalla Romagna nel Riminese i contagi salgono a 16 circa 100 le persone in quarantena tra i sanitari in isolamento anche il personale degli ospedali di Cattolica e Riccione siamo a due passi chiusa la pagina del coronavirus nella segna stampa alle 7.18 per chi ci segue in diretta adesso andiamo a vedere le altre notizie la cronaca con 4 ragazzi di Colli al Metauro e di Fossombrone di età compresa tra i 20 e 26 anni sono rimasti feriti la scorsa notte in un incidente stradale avvenuto lungo la Flaminia a Tavernelle di Colli al Metauro e alcuni di loro sono stati trasferiti in Ancona il più grave è un 21enne di Tavernelle che adesso si trova in rianimazione per la frattura di un bacino smentita la voce invece che in un primo momento lo davano per che fosse in coma insomma per gli altri la prognosi invece è di pochi giorni in questa fotografia vedete l'auto questa punto che si è scontrata contro ecco questo albero poi ci sono stati altri incidenti di cui parla anche il resto del Carlino questa mattina intanto le fotografie sono sempre per questo punto che è andata contro l'albero il secondo incidente invece è avvenuto a Fano nella nuova rotatoria per la strada che conduce alla Finile un'auto è andata dritta finendo sopra la rotatoria abbattendo praticamente tutti i cartelli stradali non ci sono però state conseguenze gravi per il conducente il terzo invece incidente è avvenuto a Villanova di Colli al Metauro dove a mezzanotte e mezza un'auto è finita dritta contro una pianta per causa in corso di accertamento insomma due piante centrate e alcuni cartelli questo è il bilancio della notte scorsa mentre torniamo sul resto del Carlino un giovane un giovane di Pesaro l'altra notte intorno all'una e mezza in zona Vismara ha preso a cazzotti a colpi di arti marziali chi cercava di impedirgli di compiere un gesto autolesionistico cercano di buttarsi sotto un treno a un certo punto ha cominciato a correre voleva gettarsi sotto un treno dopo aver bevuto ed essersi divertito fino a pochi minuti prima con il gruppo di amici e lo faceva un po' senza motivo per fortuna dobbiamo dire che qualcuno ha chiamato i carabinieri poi i carabinieri con l'intervento del 112 anche al telefono sono riusciti a fargli passare questo momento di crisi ma soprattutto a salvarlo perché questo ventenne che appunto ha passato tranquillamente questa serata scherzando e ridendo a un certo punto è stato convinto a desistere a compiere questo questo gesto estremo e il Carlino ricorda anche il precedente cioè meno di una settimana fa è stato sventato un altro suicidio all'ultimo secondo la chiesa è in lutto invece per la morte di Don Zenaldo del Vecchio avrebbe compiuto 90 anni domani era nato nel 1930 a Candelara ed era stato ordinato sacerdote il 31 luglio del 1955 per tanti anni era stato parroco della parrocchia di San Tommaso in foglia e canonico del titolo di Sant'Addeo il funerale sarà presieduto dall'arcivescovo di Pesaro Monsignor Piero Coccia mercoledì 4 marzo alle ore 9.30 nella cattedrale di Pesaro da Fano invece alle terme di Carignano resta solo l'incuria strutture abbandonate avanza il degrado deserte le offerte di vendita dopo il fallimento del progetto di rilancio della famiglia Berloni e quindi insomma questa è la situazione che vedete nella fotografia con Lorenzo Benoffi che mostra al fotografo del giornale un po' come è la situazione vedete tutti i rovi piante è un vero peccato devo dire la verità un vero peccato che una struttura come questa sia in completo abbandono il regina da una decina d'anni attende di essere trasformato in una struttura sanitaria mentre il quattro fonti dopo aver ospitato per un certo periodo le terme vere e proprie trasferite dalla storica palazzina all'interno del parco è praticamente chiuso ermeticamente chiuso anche per evitare che poi dentro vadano a bivaccare o addirittura insomma a dormirci passiamo alla politica con il partito democratico che candida Mangialardi il sindaco di Senigallia ha ricevuto anche l'ok dalla segreteria nazionale dunque la decisione della direzione marchigiana del partito è avvenuta quasi all'unanimità da oggi nasce un nuovo progetto che ci vedrà insieme ai nostri cittadini dice Mangialardi Orlando invece chiude il capitolo con i grillini dice non c'è possibilità di intesa le reazioni il vice segretario nazionale è soddisfatto per la ritrovata unità Lodolini il partito dice si apra al mondo civico anche candidando il professor Longhi per allearsi invece Italia Viva dice servono rispetto reciproco e pare dignità nessuno può essere autosufficiente dunque come vedete adesso bisognerà trovare l'accordo con gli alleati intanto Mangialardi in questa fotografia si commuove abbraccia con intensità e con forza il governatore uscente Ceriscioli il PD è con lui da domani via agli incontri con gli alleati e ricordo Mangialardi questa sera in diretta su Fano TV alle 20 e 30 ancora Italia Viva per allearsi serve rispetto e pari dignità la coalizione vuole vederci chiaro soprattutto sull'improvvisa virata del PD e sulla candidatura di Mangialardi il governatore assicura dice ora ci sono tutte le basi per poter vincere Ceriscioli il mio passo indietro dice era tra le richieste della coalizione mentre Mangialardi a caldo sono pronto dice a creare un progetto dalle larghe intese con gli alleati civici siamo uniti dagli stessi ideali Urbino Urbino ricorda il centenario della nascita di Amato Cini sacerdote docente poeta morto nell'87 amico di Don Itolo Mancini e anche del magnifico Carlo Bo e di questi giorni la presentazione del libro dell'intellettuale Ducale Gastone Mosci che si intitola La scoperta di Amato Cini poeta che è stato presentato questo libro a Fermignano paese natale del canonico e a Durbino dove Cini ha trascorso buona parte della sua vita velocemente dalla valle del Cesano da terre roveresche il polo scolastico per l'infanzia messo nel piano regionale la struttura di piaggia è finanziata con un quasi due milioni di euro interamente a fondo perduto da Senigallia invece lezioni grandi manovre Porcelli sostiene Battisti il cattolico al fianco del candidato sindaco per l'altra Senigallia con la sinistra a Pesaro messa in sicurezza del cavalcaferrovia si viaggerà solo su due corsie centrali l'assessore Belloni ci saranno sostituiti i parapetti partiamo dal lato della chiesa dei cappuccini l'intervento durerà alcuni mesi torneremo gradualmente a tre corsie e poi a quattro carreggiate e con questo chiudiamo qui la nostra rassegna stampa ci vediamo stasera alle 20.30 con il telegiornale Occhio alla Notizia e come sempre per tutti gli aggiornamenti abbiamo 24 su 24 operativo al nostro sito internet Occhio alla Notizia punto it poi abbiamo anche Telegram ieri ieri pensate più di 400 persone si sono iscritte al canale si sono unite al canale Telegram dove aggiorniamo in tempo reale le varie informazioni e vi diamo anche link utili che servono anche per la questione dell'emergenza coronavirus e poi la nostra applicazione è tutto quello che già sapete grazie per essere stati con noi buona giornata a tutti Grazie a tutti